musica 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 eee sali a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video sono sempre io il vostro Jurassic 4, 9, 10 e oggi siamo qua nuovamente su leco star wars il risultato della forza o the force awakens perchè è così e basta allora ce l'avevo lasciati l'altra volta che praticamente era finita l'introduzione diciamo e adesso avevano catturato il nostro bellissimo eroe po dameron e quindi niente cosa facciamo andremo ovviamente con lui non lo so in realtà spero che così continua la storia e poi tutto collegato non c'è nessun casino però vedremo quindi vai pure ok c'è un tizio che vola bella tortura dici mamma mia la tortura con le piume è in un droide un'unità bb bene se è sul giacu presto sarà nostro affido a lei l'incarico ma il trapano con la piuma ok ok ascolta mi stai aiutando perchè è la cosa giusta da fare ovviamente è la cosa giusta da fare ti serve un pilota mi serve un pilota perfetto perfetto quindi noi siamo incatenati e posso usare anche lui però ok ok dove bisogna andare non ci so ok ok blocchi mobili blocchi mobili blocchi mobili forza forza ok si si perchè saltellano i pezzi perfetto pulsante 4 ci va incontrizando questo perfetto vai ah salta ok ok perfetto qua solo i drodi pentacolari come quel tizio rosso possono usare queste terminali ok dove lo posso trovare quel tizio rosso non si sa meraviglioso ok vai aspetta ok mi da molto fastidio ok grazie perfetto qua mi sa che ok qua posso usarlo io pulsante 4 ok sto imparando i tasti cioè finalmente mi ricordo un po' i tasti cioè questa cosa è abbastanza carina però non lo so in realtà non lo so ok salta ok qua c'è un altro posso usarlo si posso vai perfetto vai 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 boom ciao ok spingi ok vai perfetto ok eeeh qua lì c'è il tizio rosso ma tipo ah ok ci sono i pezzi da montare perfetto eeeh ok mi fa montare tanto questo quindi va benissimo una sveglia gigante ok ovviamente è normale posso assisterla signore ok r3po ok vai r3po perfetto perfetto ah mi servi tu tra l'altro oddio come cammina perfetto ah può anche attaccare una cosa che nei vecchi nei vecchi lego non potevano fare perfetto pulsante qua ok ok eeeh cosa bisogna fare qua non lo so ok ok ho capito bisogna praticamente rifare quelle il propulsore vuole che tu ricarichi quello speeder ok gli ordini sono ordini perfetto devo informarla che quel droide ha detto che il propulsore difettoso e ricaricarlo potrebbe avere conseguenze impreviste va bene va bene ok è un'astronave che funziona bene già perfetto intrusi nell'hangar tutte le unità convertono sulla loro posizione ci hanno scoperto ci hanno scoperto divertente va bene vai 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 perfetto qua possiamo è proprio uguale a noi possiamo montare cosa qua non fatevi scappare tutti i cacciatari sono bloccati ok dobbiamo arrivare a quella sala di controllo e sbloccare il cacciatari ok stiamo salendo la sala di controllo ciao sala di controllo gli intrusi tendono l'accesso alla sala di controllo a tutte le unità vicine rispondete si 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 ciao ciao tizio ok qua possiamo saltare ci sono eeeh ok siamo caduti eeeh eeeh quindi ora possiamo smontare questo e usarlo per fare l'altra cosa o no la uh la c'è un mattoncino la c'è un mattoncino di quelli viola che tipo vale troppo oddio vai al coso viola vale tipo 10.000 10.000 mamma mia rompiti oh ho ucciso l'altro tizio eh vabbè capita e adesso montiamo questo coso che tipo dici buh non si sa cos'è però montiamo lo stesso quadrato ok penso che si stia carino ok ah ok sta sta è tipo un coso che tira ok 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 oddio tizi tizi che arrivano prendiamo la pugni ok grandi troppo forti ah già qua non possiamo più andare perché se serve il motore quindi ok bisogna ricostruire questo ancora una volta e poi andiamo tipo verso di qua perfetto ok oddio no son caduto come un deficiente salta ok grazie grazie passa piano 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 uccidiamo tutti adesso vai 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 muori ok vai ah c'è un tizio ok devi sbloccare il caccia ma non ho il codice d'accesso possiamo distruggere tutto magari il caccia si sblocca vai spacchiamo tutto monete soldi ok ok non sembra che stia funzionando affatto ok ah fermi qua ok possiamo usarlo ok questa cosa tipo bruttissima di unire qua perfetto poi questo tasto ok poi questo tasto mamma mia troppo bravi perfetto e quindi adesso si sblocca o ok ok perfetto 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 ok ora bisogna soltanto raggiungerlo non dovrebbe essere difficile ok ok arrivano dei tizi ciao tizi spaccagli la faccia vai fn2187 spaccagli la faccia ok come possiamo passare ok c'è c'è ok sta arrivando una nave forse porterà altri soldati ha portato altri soldati meraviglioso e c'è un tizio con lo scudo ok calmi 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 cioè va bene tutto però ok vai spara 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 no ho sbagliato cambiato il personaggio come un vero deficiente ok vai spara ok vai 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 ok uccidiamo quelli con la torretta che è quello più pericoloso in teoria forse non lo so spara fermo vai 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 bam è morto ok 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 queste sono abbastanza complicate queste cose riesce a colpirlo sulla destra quindi eccolo qua ciao ok abbiamo ucciso tutti ok si meraviglioso ne stanno uscendo degli altri bellissimo vai perfetto aspetta ok possono usare il rampino tipo dove ah tipo lì ok quindi io posso usarlo no oh sì ok sì possiamo usarlo vai usiamolo allora vai bam ok lì si è spento lo scudo lì si è spento proprio la torretta quindi possiamo colpirlo adesso ok quindi ora possiamo colpirlo ah cioè non lo stava facendo colpire sì ok 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 perfetto grandi troppo bravi e ci mancano soltanto questi due soldati vai bam troppo forti perfetto 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 ne stanno rimando degli altri ma quanti c'è ok ok quella cosa è abbastanza tipo forte cioè e farvi notare tutto questo perché due tizi stanno parlando di prendere un cacciatai che dici un caccia ok queste bombe fanno qualcosa a quanto pare no a quanto pare non fanno assolutamente nulla cioè se io provassi di là magari c'è qualcosa ah qua c'è un tizio ok sparagli fermo qua c'è qualcosa no non posso sparargli ok ah sì sì posso sparargli ok grazie ora posso fare una scansione ravvicinata ok scansione ravvicinata ah ok 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 ho capito ci vuole lui perché ci sono questi cosi esatto premere il bussante 4 e ci usa e ci ok 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 perfetto fermo fermo ok 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 tipo le batterie abbiamo aperto quindi ok vai 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 grandi troppo forti però è ancora viva la torretta ed è un po' bruttina come cosa spara lì ok ok quindi ora cosa posso fare cioè ok 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 questa cosa me l'aspettavo perfetto vai ok quindi adesso sempre di qua sarà perfetto troppo bravi vai vai e ora puntiamo punta fermati ok grande grande vai 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 boom bam la torretta che esplode mamma mia eh gli effetti speciali però tu sia un bravo pilota mamma mia gli effetti speciali siamo dall'anga te lo dimostro perfetto voglio l'altro mi sta più simpatico FN2187 anche poi è figo eh però FN2187 è molto meglio ok possiamo salire perfetto adesso arrivano gli altri da dietro no? adesso perfetto vai è un ottimo momento per sparare distruggiamo la sala di controllo oh ok 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 vai 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 addio ok bisogna distruggere queste navi perfetto vai vai spariamo un po' anche i tizi vai oh qua ci sono altre navi ok 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 vai ok ci diamo un po' di tizzerando non penso che serva però cioè non ci stanno facendo niente di danno in teoria oh le torrette oddio le torrette ci sparano fermi ok ok possiamo andarcene oh c'è altro ok ce ne stiamo andando troppo forti chi è così forte chi? chi è così forte? cioè basta mamma mia ok ok ora ci fanno fare gli seguimenti da fuori come nel film ruffa automaticamente ok mi sa che ce lo fa fare a noi ce lo fa fare a noi non puoi mancarti hai visto che roba? hai visto che roba? hai visto che roba? si ho visto ehi come ti chiami? ok 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 vai ok vai devo distruggerne 30 la sciopla c'è scritto 7 6 adesso va bene no no non lo so ok fermo 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 si si ok gira 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 piano piano li vedo anch'io li vedo però voglio distruggere le torrette preferisco ok oddio cosa ho cliccato ok con il tasto x fa questa cosa tipo molto strana stiamo calmi sono bravo a guidare l'avevate capito vero che sono oddio ok sono molto bravo a guidare quindi vi ricordo se qualcuno di voi venisse mai con me non mi faccia guidare mamma mia ok ok ora questa è una torretta grossa molto grossa perfetto ok ci sono le sfide rosa ok quindi so cosa bisogna fare i nostri blaster non scaltiranno qualcosa vai attento ai cacciatae delle forze speciali ma si ma certo ricarichiamo un paio a bordo potrai far fuori i generatori e quel grosso cannone ok ok vai su vai su piano ok quindi bisogna andare là vicino e distruggere il cannone fammi sparare fammi sparare vai boom perfetto 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 ok girati spara l'ho mancato l'ho mancato malissimo fermo fermo girati sono morto dove sono in questo momento ok sono qua vicino perfetto vai boom e poi ci hanno aggiungito la torretta boom troppo bravi mamma mia la torretta è stata distrutta come se fosse nulla torniamo su jacqu ecco dove no 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 come sarebbe su jacqu dobbiamo lasciare questo sistema devo arrivare al mio droide prima del primo escono altre torrette esatto è un'unità BB arancione e bianco ed è unico perfetto ci stanno sparando anche abbastanza non conta il colore nessun droide è così importante ok avevo tipo ok distruggiamo tutto oddio c'è un raggio dietro l'ho visto l'ho visto il missile l'ho visto oddio oddio perfetto oddio ok ci sono altre navi distruggiamo tutto noi perfetto ok ok no lo vedo sta per colperci preparati dove oddio no va bene va bene questa cosa però doveva succedere per forza anche nel film è così quindi cioè alla fine doveva succedere il caccia si schiatterà nelle gozombadrans tornavano a prendere il droide mandate una squadra sul posto ah si è già schiantato ok non ci ha fatto vedere lo schianto ci sono pezzi che cadono dal nulla un pezzo di corpo ciao nave esplosa e qua c'è Ray Ray ok e c'è il droide lì b8 meraviglioso ok quindi ah ok subito così cioè non potete farmi iniziare così fermi oddio ok ok quindi adesso siamo passati a lei cioè così a caso se potevano avvisarmi un attimino cioè ah oddio non sono così bravo cioè mi serve un attimo di preavviso ok però a quanto pare non mi sono schiantato quindi io sono abbastanza bravo ok ok hanno montato un pupazzo di sabbia ok ok Ray ha il bastone Ray ha il bastone giusto 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 è vero che Ray ha il bastone vai sfuggiamo tutto muori boom perfetto ah qua possiamo montare qualcosa cosa qualcosa che non ci sa cos'è questo topo a quanto pare no oh si 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 ok si da qui non risaliamo passeremo dal relito di quello star destroyer perfetto quella dovrebbe essere la leva di sgancio dell'oblò dove? non la vedo ok apriamo un po' di fatto certo che puoi aiutarmi è colpa tua se sono in questo guaio ok qua ok ah ok anche lei quindi può fare il tilt il robot che è strano lì c'è un tizio che mangia il gelato ok dov'è che è il coso quel coso di sopra eh ok fermo fermo ok la porta la porta la porta meraviglioso boom ok è uscito un messaggio di aiuto fammi vedere l'aiuto gli oggetti leggo danneggiati possono essere distrutti con questo coso ok distruggiamolo con questo coso quindi se faccio pulsante 2 ok 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 è docile ma non ti conviene stargli vicino quando attacca ok ok qua starei BB 8 vai BB 8 cambia BB 8 pulsante 4 no pulsante 4 punta boom fermi ok ok visto che vuoi aiutarmi puoi alimentare quel circuito Certo, l'ho appena fatto Perché è parte della musica? Perché sta esplodendo tutto? Ok La musica si interrotta, va bene Va bene, va bene, adoro questo gioco Non ha alcun senso, ma lo adoro comunque Ok, vai, andiamo avanti Ma c'è un tizio Che non l'avevo visto, guardalo Come si nasconde Oh, attacchi BB8 Mamma mia, muori Ok, perfetto Qua cosa mi dice? Il personaggio, posso usare questi oggetti Per non giungere nuove aria, ok, ciao Ok, ok, ok Piano, piano Ok Fermi, salta Ok Devo fare qualcosa No, ok Sta facendo tutto da sola Ok, si è aperto Quindi adesso ci serve BB8 Vai BB8 Mamma mia Mamma mia, troppo potente BB8 Boom Perfetto Ok, bisogna caricarlo Piano Molto piano Perfetto Ciao Ok, una porta che funziona bene a quanto pare Già Perfetto, entriamo quindi qua dentro Uh, hanno acceso una luce Ok Perfetto Quindi questo si può distruggere Che serve per montare qualcosa Quindi montiamo qualcosa Perfetto No scherzo No scherzo Non serve Ah, è soltanto un oggetto che non può essere distrutto È meraviglioso E Fulsante 3 Oddio, ma qua Ok, ok, ok Fortunatamente lo fa automaticamente E non devo far nulla Io altrimenti Potevo morire anche abbastanza bene Perché io sono bravo a stare in equilibrio Io sono molto bravo a stare in equilibrio Già Ok, perfetto Fermi, vai Spacca tutto Fermo, fermo Questo poso non si è rotto Ok, possiamo montare qualcosa? Sì Cosa? Ok, solo questo Cominciò qua a montare E cosa sarebbe? Un cestino Molto utile Già Qua non possiamo Sì, possiamo montarlo Ok Ok E anche qua si può montare Soprattutto questa cosa Ok Ok Ok, qua Pulsante 4 Ok, ha messo il suo bastone Ok, quindi vai Mi piacciono la gialla Come posso usare queste asti rotante? Ok Asti rotante Quindi Ok, ok Quindi posso Lanciarmi così Perfetto, vai E il nostro bastone lo lasciamo lì Va bene Oddio, sta crollando tutto Oddio Oddio, oddio Ok Ok Pulsante 2 Pulsante 2 Pulsante 2 Pulsante 2 Salta, salta, salta Oddio 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 questa cosa Di doverlo caricare in questo modo Girando la manovella Ok Perfetto No davvero è qualcosa di tipo Oddio Cioè Quanto è carino BB8 Dai quanto è carino Muori Muori Attacca No Mi colpiscono Certo che però Cioè Qua Ok Lei può sentire Ressarti sul muro Quindi noi non possiamo farlo Mori Mori per favore Ok qua I personaggi piccoli Come BB8 Possono prendere il cesso E raggiungere una nuova area Ok Quindi possiamo noi entrare qua E andare in nuove zone Ok sì Da lì dovresti raggiungere Un pannello d'accesso Per astromeccanico Vedi se riesci a usarlo Per farmi arrivare lassù Pulsante 4 Ok Bisogna fare questa cosa Ok vai Così Bam Troppo forti Mamma mia Così Perfetto Per forza Perfetto Noi siamo BB8 Cioè Cioè Mamma mia Ok Sono uscite delle luci Ok Che tipo dici Ok Ok fortunatamente Cioè Ray fa tutto abbastanza Automaticamente Quindi Poi vabbè Si bugga sulle cose Però Quello sono tanto dettagli Ok ciao Perfetto I titoli hanno ripuliti per bene Quindi io posso fare No non funziona Tutti io Farò in un attimo Tranquillo Conosco queste navi come le mie tasche Ok Ok Pulsante Questi sono agili Come possono usare questa agilità Per ci vuole sotto gli stacchi Quindi pulsante 3 Non lo fa Non lo fa Ok 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 L'ha fatto L'ha fatto Perfetto Quindi possiamo passare in spazi Molto piccoli Con Ray Va bene Oddio le pareti di Lego Quanto sono fighe Queste qua sono tipo le pareti D'arrampicata Fatte Perfetto salta Ok Qua c'è un coso da costruire Anche qua Distruggiamo tutto Lì ci sono dei cosi da uccidere Ciao Perfetto Abbiamo preso un cuore E tipo è parita la musica fiera Quando abbiamo preso il cuore Ok possiamo montare Delle cose Montiamo questo Per far salire il biotto No ok Non posso usarlo Prima devo far arrivare qui Il piccoletto Ok E' quello che stavo pensando Però pensavo che questo qua Devesse per farlo salire E invece no E' 4 Quindi quello di sale Per aprire la porta Quindi andiamo su questo Magari Non lo so Troverò il modo Di farti salire fin qui Ok Ok ferme Ok Lei può usare il suo bastone Per attivare questi interruttori rotanti Con il pulsante 4 Quindi vai Pulsante 4 Ok Vediamo se riesco a hissare quel cacciatai Ok Ah ok Quindi questa qua è la classica manovella da girare Va bene Va bene Va bene Vai Perfetto Ok Non sta più andando Perfetto Ok Più o meno l'hai alzato È crollato metà Però l'hai alzato Ok Perfetto Ho un lavoro per te Certo eccoci qua Fermi In realtà mi servi tu Quindi Ah Fermati Quindi Vieni qua Fai la porta Grazie E passa dalla porta L'uscita è chiusa La puoi aprire Certo Io sono BB8 Posso aprire qualsiasi cosa Cioè Con chi pensi di stare parlando Cosa devo fare Ok devo andare qui qua A aprire la porta Vai Porta apriti Grazie Da qui non avremo problemi Perfetto Quindi vai Ok Ok Perché cammina così lenta Vai Ok sta camminando lenta Perché c'è la mano davanti Così tipo In modo molto strano Perfetto Sta facendo dei puntini Ha fatto una faccina felice Ok Ok Da dove arrivi Classificato eh Anch'io Gran segreto L'avamposto di Nima è di là Evita Calvin Ridge Sta lontano dai campi mobili a nord O affonderai nella sabbia Non seguiremi La città è di là Domattina te ne vai Non c'è di che Ok Perfetto Ok abbiamo completato il livello Perfetto Quindi Da Jurassic Quacciono 10 È tutto Vi ricordo di mettere un bel Mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Se non avete ancora fatto E noi ci vediamo al prossimo episodio Di Lego Star Wars Il risveglio della forza O The Force Awakens Io non so perché lo continuo Di tutte e due le volte Cioè lo dico sia The Force Awakens Sia il risveglio della forza Non so per quale motivo Perché mi viene spontaneo Tipo Però va benissimo Comunque ci vediamo La prossima volta In cui penso che andremo avanti Con Rey In teoria Sì Secondo il film Sì Che poi incontriamo Finn E poi non me lo ricordo Perché sono una persona Molto intelligente Comunque niente Noi ci vediamo Al prossimo episodio Quindi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti